Steph, siamo in tre Siamo in tre? Ne manca solo uno Stai schi... No, non so com'è possibile ma è successo, Steph Ma che cosa? Dai, questa vittoria è nostra, non è che ci può decidere Fede, non puoi dire... No, io non gioco più L'ha detto lei, io non l'ho detto L'ha detto lei Scusa Te l'ho detto, gli ultimi che scendono saranno gli ultimi sopravvissuti, Steph È uno contro uno, io non gioco E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki Io sono Steph, è che se giochiamo a far noi... Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite Cosa faremo oggi, Steph? Deliziami Oggi non facciamo nulla Come non facciamo nulla? Sì Quindi? Allora, praticamente ho visto un video di Gonx Mi è piaciuto tantissimo perché è una di quelle idee proprio senza senso Che a me piacciono sempre Dove praticamente lui si butta per ultimo Apre subito il paracadute E scende per ultimissimo in assoluto nella mappa Quindi rimaniamo nell'autobus fino all'ultimo secondo Quindi fino a che non ci butta lui da solo Dopodiché apriamo subito il paracadute E rimaniamo a fluttuare in giro E rimaniamo a fluttuare in giro Ok È strano Cercando di scendere per ultimi nella mappa Con l'obiettivo tipo di scendere quando siamo rimasti tipo in 30 A quel punto cercare una o due armi e provare anche a vincere il game Anche se credo sia totalmente impossibile E beh, saranno tutti armati finedetti e noi appena scesi Però, pensa se viviamo nella top 10 Facendo così Eh, sarebbe bello Farebbe ridere oltretutto Allora, occhio che fra poco ci butta Quindi pronta a premere spazio Ok, premi spazio Fatto E adesso credo che se noi rimaniamo completamente immobili scendiamo lentissimi Quindi guarda in alto Ok E stai così Mi fermo così? Sì Sì, 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 sì Ok Ok Quando staremo per scendere del tutto allora puntiamo un attimino a qualche posto Qualche casettina, qualche cosa Sicuro che non casco in acqua e muoio o qualcosa del genere? No, no, sto controllando È tutto a posto, è tutto a posto Allora, per ora sono morti i 4 player Mentre noi stiamo così Beh, che facciamo Stef? Chiacchieriamo? Beh, allora Prendiamo un terra 40 morti e stiamo per toccare terra, Fer Allora, a sto punto inizia ad andare un pochino in avanti Io stavo anche per cadere su un albero Sarebbe stato problematico Siamo completamente in mezzo al nulla Peccato però E adesso inizia la partita Esatto Non è morta abbastanza gente Peccato Beh, beh, insomma 40 player già morti Pensa quando è la missione Quella di sopravvivere Fino ai tipo ai 50 Ah, beh, questa è una buona tecnica In effetti Stai lì, non fai neanche nulla Se non hai voglia di giocartela È un'ottima tecnica Chi trova? Ma che cavolo spacchi scatole Anzi, mi servono materiali Perché vado a prendermi con la cesta Ah sì, infatti, infatti Sì, sì, sì Comunque, adesso l'obiettivo È arrivare anche in una buona posizione Per il game Per vedere se è una tattica Che davvero si può sfruttare Secondo me no E dato che abbiamo fatto la prima tattica Steph vuole introdurre la seconda Voglio restare ai limiti della zona Tutto il tempo Quindi adesso noi Ci equipaggiamo un pochettino Ma restiamo sempre nei limiti Per cercare di evitare Completamente tutti i fight Possibili e immaginabili Fino alla fine del game Ovviamente la fine del game Sarà difficilissimo Perché pochi materiali Poche armi e così via Però se arriviamo nei top 10 Così senza fatica È comunque già un traguardo Secondo te se mi butto da qui Mi faccio male Eh, può essere Aspetta, scendiamo un po' Cosa Hai trovato? Uno schifo Ok, non mi sta fatta nulla Vampa, fucile e granate Quindi te lo devo dire Ah no, dai, è verde È verde ma fa schifo uguale Cioè chi la vuole questa arma Ma dai C'è un sacco di gente Stai zitto, guarda Non provare a giustificare Non provarci Allora, qui Una, due cesto Due cesto Ferri, vieni Una testa Vieni, vieni, vieni Ok, dove sei? Qua, 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 qua Al solito posto Arrivo, arrivo, arrivo Ok, allora io prendo quella in fondo Fortuna me Vabbè, c'è un M16 bianco per te Vediamo questa Ferri, ma oggi attiri vampa a fucili Sì, sì, no Ma che è sta roba È una vergogna Guarda, preferisco l'M16 bianco a quella strifezza Uh, anche il pompa verde Perfetto, perfetto Guarda, io sinceramente sono abbastanza felice Abbiamo avuto parecchia fortuna Che siamo scesi nella parte di questa zona Dove non va mai nessuno Sì, esatto Ma comunque qualcosina c'è Devo dire che un po' di fortuna l'abbiamo avuta Però sono soddisfatto 47 player vivi Non abbiamo fatto una mazza Ci stiamo equipaggiando almeno un pochettino Perfetto Quindi direi che va bene, no? Va benissimo Va benissimo Ferri, qua c'è un pompa verde, guarda Ok, arrivo Dietro di te Ok Vediamo se c'è la solita ceste qui dietro l'autobus Perché di solito qua si trova una ceste Eh, yes Fortuna Ok Bah Ti hai trovato? Shieldini Almeno Ah, ci sta Ah, sei stato tu Hai sceso un colpo Ho fatto Scusami Ci stanno già iniziando a sparare Che ancora È finito il gioco Ma qua c'è uno shield Vabbè, me lo bevo Davvero? Maledetto, non l'avevo visto Almeno arriviamo tutti e due a metà Eh, va bene così Perfetto, perfetto Allora mi spacco anche quest'albero Non c'è la ceste di quella Prima dell'ultimo piano E allora c'è per forza anche quello L'ultimo piano Vabbè, se non hanno lottato neanche il boschetto Non l'hanno lottato, sì Ma perché lo chiamo boschetto quando il rifugio è ritirato? Porca miseria Perché c'è boschetto abbastanza vicino o no? Perché c'è boschetto Non è totalmente dall'altra parte Ah, ok Però esiste come città e mi confondo E allora non capisci nulla e basta Esatto, come sempre Materiali Qua abbiamo anche la ceste Io vorrei un bel cechino Poi se mi vogliono dare anche l'RPG Io l'accetto sempre E vabbè, stai chiedendo troppo però, eh No, vabbè Se me lo vogliono dare Non ti allargare Ok, qui c'è la ceste Un altro M16 bianco A quanti M16 bianchi sono? A quattro? Può essere Ah, c'è un altro qui 35 player, Fere 35 player C'è un altro qui, ti volevo dire Ah, ok, interessante Sono morti 65 player Senza che noi abbiamo fatto nulla E adesso si sta chiudendo anche la zona Quindi vediamo se ci dobbiamo per forza muovere Ma credo di sì Non possiamo avere fortuna infinita, infatti Molto lontana Fammi vedere Ma no, neanche troppo Neanche troppo, perfetto 34 player vivi 33 Ho trovato una bella cosa, Stef Che cosa? Eh sì L'ho proprio trovato C'erano tutte e tre le ceste qui sopra Ti dico, eh Tutte e tre Scriffo a livello di Armim Ho trovato i lanciarazzi Quindi non male C'è pure un airdrop Perché l'ho sentito Non mi sembrava lontano Però con l'ultima pace Gli hanno un po' bagati Ok E non si vedono finché non gli sei vicinissimo Non so bene perché hanno fatto sta scemenza Non so perché È un po' fastidiosa Però l'hanno fatto Eh vabbè Allora, il pompa blu per cambiarlo Perfetto Io ho trovato il Jug 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 Te l'ho detto di proposito, cara No, l'hai sbagliato e basta Come fai sempre? No Devi impararle le cose Te le devi insegnare nei foglietti Tipo prima di registrare Te le devi ripetere dieci volte Così lo memorizzi Jug Jug Basta Non rinizziamo Sì, sei fastidioso e basta Allora, qua c'è una balestra Anche uno shield Che adesso quello me lo prego Allora, devi contare che siamo anche abbastanza lontani dalla zona Quindi poi tra poco, secondo me, è il caso di iniziare a muoverci verso altri confini Vuoi fare uno scambio? No Io ti do il mio Jug Jug E tu mi dai l'RPG Tanto te l'avrei dato lo stesso, quindi La so, ma vabbè Perché sennò qui ti sento a frignata tutta la partita Allora, dammi anche i colpi Allora, i colpi Ne ho solo tre, però, eh Quindi Ok Tanto qualcosina ce l'ho anche io E... Tieni Ok Ok, allora Mi devo sistemare Facciamo Uno, due Oh, mamma mia Mi ha fatto venire un infarto Non so perché Devo fare materiali Ah, perfetto Hai sentito che ci sono ceste anche qua? Eh, no Perché stavo un attimino scambiando lo slurp con questo Ok Cos'è? Eh, vabbè Vabbè, io mi prendo questo Quindi ti andata bene Poi c'è lo slurp, ma siamo entrambi full shield Quindi non ci serve a nulla Ok Fucile a pompa 26 player vivi Fantastico Fantastico Speriamo di rimanere con l'ultimo team in vita e basta Hai meno spazio per gli shield Vabbè, no, li prendo io Li prendo io No, perché ho i medikit Eh, la so, sei un'ambulanza vivente Esatto Il chuck jug Poi ho delle granate che sinceramente mi voglio tenere contando che non ho chissà quale arma Quindi non ho altri spazi liberi Ok Stiamo dentro, saltando Sì Ok Salta bene Ho saltato, non ti preoccupare Mamma mia che persona Non si sa mai Ok Layer di fronte a noi per ora no 24 persone rimaste e non abbiamo fatto un accidenti Fantastico Bellissimo, bellissimo Ora stiamo dentro la zona e rimaniamo ancora a limiti Perché se noi andessimo un po' più al centro Troveremo la gente di magazzino muffito E certo, certo Che è molto cattiva e molto arrabbiata E noi non abbiamo intenzione È molto armata Oltretutto Noi vogliamo fightare gli ultimi due È proprio il minimo source indispensabile per vincerci un game Mi sembra giusto così questo oggi Mi sembra giusto così Quindi, allora, aspetta che mi sistemo le armi perché ce le avevo messe male Perfetto Tu quindi hai MS-10 blu, pompa verde e poi un sacco di cose utili tra cui 9 granate Sì Perfetto che intenzioni hai con 9 granate Eh, le ho trovate tante Ho detto, siccome poi non ho chissà quale altra arma mi metto a tirare granate Ci prendiamo un po' di legna di qua? Sì, sì, sì Perché sinceramente ne ho poca Questi oltretutto non li fa mai nessuno ma io li adoro Quelle strutturine in legno che ti danno un botto di legna È la cosa più comoda in assoluto Allora, vediamo se da qui Ferre Eh No, hanno lottato neanche qua Ma c'erano i player in sto game Probabilmente erano tutti a pinnacoli in qualche città A morire Anche perché poi sono morti tutti subito Quindi sì, è molto probabile sinceramente Fantastico Fantastico Tutto il tempo a lottare posti Ferre c'è uno scarepico Ma come? Vieni Ma che vergogna Non abbiamo combinato nulla e siamo pieni di armi Scar leggendario Scarepico ed RPG No, è una vergogna Cioè se fosse un game serio Non avremmo questo equipaggiamento No, sì, senza dubbio Cioè giocavamo in modo eroico Sarebbe andato malissimo come sempre Ti ritrovavi con un vampa a fucile e una pistola A questo punto Non ci sono proprio dubbi infatti Non ci sono dubbi su questa cosa Comunque io ho 200 colpi delle mie 16 Quindi sono messo abbastanza bene Io ho 184 Quindi comunque non è male Perfetto, perfetto Materiali? Eh 363 sì E infatti noi sto approfittando Per far meno in sto posto Che è pieno di cosettine di legnale a rompere Sento una cesta Sì Aspetta Vediamo se loro hanno vantaggio nel caso di posizione Anche se non sembra che ci abbiano visto Perché loro stanno guardando altri Quindi non ci hanno minimamente visto Eh, però bisogna vedere dove sono gli altri Perché possono essere un problema Magari ci prendono alle spalle No, sono di fronte a noi intorno a 240 Ok Ma aspetta Ma questi due stanno fightando tra di loro Perché fanno cose strane Ma no, è impossibile No, no, no Però sono strani Forse c'è gente lì dentro Sì, c'è gente lì dentro Feroi, spara C'è gente lì dentro, vedi? Mettiamoci in mezzo Colpito, colpito, colpito Colpito, ucciso Anche se non l'ho ucciso io Quindi bisogna fare attenzione Ok È morto? Ho continuato a colpire Non lo so se è morto Penso di sì C'è solo del loot Quante chi l'hai, scusami? Zero Anche io E quindi come sono morti, scusami? Di infarto Cioè perché Allora gli ho colpiti parecchio Aspetta, eh Proprio tanto Secondo me sta dietro alla scala Eccolo, eccolo Qualcun altro Qualcuno qui a fianco, Steph Ok, a terra Occhio all'altro Sì, 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 sì Aspetta, aspetta Cavolo L'hai fatto esplodere? Non so perché Perché mi sta mitragliando Mi sta mitragliando L'avevo preso in faccia Non l'aveva preso danni Ah, boh, è stato strano Ma l'hai ucciso, sì Sì, 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 sì Ok Devo lootare? Sì, c'è un RPG leggendario Certo che devo lootare Sì, aspetta Vado anche io al volo Perché mi servono colpi Poi più che altro Vado, vado Ok Rubo colpi, rubo colpi Seguimi E vabbè, le armi lascio perdere Mi sono riempita di colpi Perché non voglio prendere troppi danni Ok È il Kenfar, vero? L'ho visto Sì Hai degli shield? Aspetta Ho sentito dei rumori strani? Comunque no, non ce li ho Ho solo il Chuck Jag Ma ce lo devo usare ora Non lo so No, no, vai Siamo in cinque Ok Quindi tre player Oltre a noi Una kill io Una kill tu Sì Ok, perfetto Che cosa strana Mi sto un attimino riprendendo Perché non abbiamo fatto in tempo Uccidere quelli Non avevo capito come fossero morti Che ci hanno assalito gli altri due È stato molto strano Lo so Non ce l'ho capito molto Gli ho tirato un colpo di pompa in faccia Perché mi ha fatto venire pure un colpo È sbucato fuori da un altro Aspetta che Sto cercando Oh, ma qui c'è la metragliatrice Di acchiappare Io la voglio Qualcosa così senza Io la voglio Andare Siamo ridicoli sto game Ok La voglio Ricarico il fucile Secondo te dove sono Io lo so che la ho di Steph Ma io adoro vedere la mia skin con questo Ho visto dei player a ovest Che bullavano E non so se stavano rushando qualcun altro Sì perché stanno spaccando Ah, li vedo, li vedo, li vedo, li vedo Va bene Ok, occhio che dobbiamo stare dentro la zona Esatto Noi stiamo malapena in zona Non ce n'è più Eh, facciamo le cose molto, capito Ci facciamo la testa Sì, dobbiamo essere anche gli ultimi che sopravvivono Torre a testa, torre a testa Pronta? Ok, vai Sì Ok A fianco? Eh, sì, sì, sì Abbastanza vicina Ok Ok Allora ma faccio qua Ok Ok Veloci, veloci, veloci Io non la faccio troppo grande Perché non voglio sprecare troppi mazze No, manco io Facciamo così Che tanto la gente sicuramente sarà di lì Facciamo una roba del genere Ok Non so esattamente neanche io che la sto facendo però Eh, basta così Oh, ci cade un'errope in faccia Eh, cavolo, tu l'hai fatta altissima No, allora aspetta che un attimino costruisco anche un po' più sopra Perché qua mi arrivano addosso per colpa dell'air drop Non lo volevo così vicino Che noia Eh, lo so, capita Non ci si può fare molto Vabbè, rimango così Ok Qua mi faccio prendere una porta Così sono a posto Questo è un progetto strano Ah, eh sì No, io ho fatto una costruzione totalmente a caso Steph, siamo in tre Siamo in tre? Ne manca solo uno Stai scherzando? No, non so com'è possibile ma è successo, Steph Ma che cosa? Dai, questa vittoria è nostra Non è che ci può fidere L'ha detto lei, io non l'ho detto L'ha detto lei Scusa Te l'ho detto Gli ultimi che scendono saranno gli ultimi sopravvissuti, Steph È uno contro uno, io non gioco Io non gioco, è uno contro uno adesso Mi ha messo ansia Cioè, no, no, non riesco più a giocare Zitto, Steph E lei ha detto tu Zitto Io non riesco più a giocare quando dici queste cose Dove sarà? Dobbiamo cercare di capire dov'è Eh Prima di tutto Io vedo l'air drop L'air drop puoi aprire? Eh sì Occhio, eh Se ti sniper Però qui devo risalire nella mia Muoio Vai Aspetta Ok Vai Belli dei muri Eh vabbè Però c'è aprirò che sono curioso Un altro RPG Lol Che mi prendo allegramente perché è leggendario Ho visto l'ultimo player Dove? La torre altissima Ha iniziato a tirare i colpi di RPG Aspetta, aspetta Devo risalire nella mia torre Accidenti Ok Cavolo, fammi delle scale qua Io ho iniziato a bucargli un pochino la torre Ok, ok Sono risalita nella mia perché mi piaceva sta posizione Ok Solo cinque colpi però, eh Perfetto Occhio perché Quindi quale la sua torre altissima, scusami Non so Vedi quella a 285 Ah, ok Sono copertone agli alberi Sì, c'è gli alberi tu Io non so se si è buttato giù E non so ovviamente se è armato il cecchino Eh, potrebbe Quindi dobbiamo stare molto attenti Molto, molto, molto Non lo vedo più Quindi secondo me sei lanciato dalla torre Ecco, lo vedo È a 240 che corre lì Praticamente verso quelle strutture in legno già costruite Lo vedi? Sì, spara Ok Eh, ma molto lontano Io non ho un cecchino Ok Ok Occhio, eh Sì, sì Finché non lo vedi non stare esposta Ok Non c'è bisogno di rischiare Mi sta nascondendo infatti Sto cercando di guardare Girando un po' il mouse Per vedere Come va Allora Ok Sto sfruttando Hai visto che ha rotto un albero? Sì, sì, sì Ci sta facendo il giro Cioè, impavido Sei solo, caro mio Ci vuoi venire Beh, il solo ha ammazzato due player da solo Prima, eh Va bene, in effetti è forte Quindi probabilmente sarà Vorrà provare a ucciderci Giustamente Ok, l'ho rivisto È un cavaliere nero Portano sfiga Quindi è forte Quindi è forte Portano anche sfiga Aspetta L'ho sfiorato Ok Io non lo vedo, Steph Ok, lo vedo Voglio cercare di distruggere gli alberi Cioè, quella foresta e quella collina Tutta a suo favore Lo so E dobbiamo anche andare via Lo so Ok Ok, prima o poi dovrà salire Perché quella collina non è più utile Scusami, eh Sta arrivando Ok Lo vedi? Sì L'abbiamo fatto andare fuori zona per un po' Sì L'ho colpito Gli ultimi che scendono Sono gli ultimi che rimangono Io due kill e tu una Cioè, è una vergogna Sta roba È davvero Una vergogna Che con sole tre kill Ci siamo vinti Che C'è da dire Che è stato il game In assoluto più fortunato Steph Perché abbiamo luttato Come se non ci fosse un domani E abbiamo vinto Non meritiamo questa vittoria Anche secondo me non ce la meritiamo Non la meritiamo Mi sento in colpa Cioè, la dovevamo lasciare al tipo Ce la dovevamo ammazzare Sì Sì Vabbè